Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Gioca con Mike Allora ragazzi, voglio fare un giletto di Apex Legends Come vedete sono livello 39, però ragazzi livello 39 non significa che sono bravo Perché sono adesso più o meno da un anno e un paio di mesi che non ho caricato più video su Youtube L'ultimi 3 che ho caricato, 4 adesso di lunedì, erano già video girati Erano sul mio secondo canale che ho cancellato, quindi li carico qua sopra così li vedete anche voi E iniziamo con Apex Legends, questo è un video che registro oggi, abbiamo il 22 febbraio Quindi vi auguro una buona visione ragazzi, divertitevi con il mio canale, iscrivetevi, mettete un bel like così non perderete nessun video Allora, partiamo con Apex Legends e ci vediamo dopo ragazzi Perfetto ragazzi, si parte con Apex Legends ragazzi Vediamo dove vuole saltare il nostro caro amico Io vado con lui, là, ok, ci sto Ci sto, seguiamolo tanto Non ci saranno grandi problemi, spero Ho abbassato un po' il volume del gioco ragazzi, perché se no non mi capite, perché è molto alto il gioco Allora, vediamo In giro prima se c'è qualcuno Ok, 3 C'è un squad Il gioco ce l'ho l'inglese ragazzi, quindi No, cazzo, si è fottuto la mia stanza Vabbè, vado qua dentro Il mio, prendiamo qua, prendiamo qua Sì, ok, ok ragazzi R301, non può succedere più niente di male Aspettate, c'è un pelo al mouse qua che mi sta rompendo Io all'inizio prendo sempre un po' di tutto perché Non so ancora che armi che troverò, no? Quindi, ok, prendiamo questa Prendo dopo Che dice quello? Sì, il zaino ce l'ho Aspetta, vado a prendere Questo qua mi serve Questo qua mettiamo qua Oh, 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 la peacekeeper ragazzi Non so come si chiama in italiano La peacekeeper, ma per me È ancora una delle migliori armi Se sai mirare, naturalmente Io non è che miro tanto bene, però Per questo mi piace perché non devi neanche sapere mirare Se uno ti sta davanti Lo prendi al 100% Oh, cazzo Dove? Dove? L'ho preso Però Era solo quello Poverino Mi servono munizioni Questo Ok Ce l'ho Mica, ho morto ancora Befa, minchia Cazzo Cazzo, cazzo Mi ho preso Ragazzo Prendilo Ok, ok Madonna, amico Mi ho fatto cagare Eh, perché non uso Non uso il 4 Aspetta, ma è il 3 Dov'è? Ah, siamo qua Come cazzo Come cazzo fa Beccarci tutti così? Non lo capisco io Oh, cazzo Perché hai chiuso la porta? Perché chiudi la porta? Guardate ragazzi Devo Mettere questo Con me Ce la possiamo fare ragazzi Dove? 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 Cazzo Ci penso io Ci penso io Ci penso io Ci penso io Tranquillo Tranquillo Non lo vuoi il medikit Ma va a f*** Che vuoi croppare No, sbagliato C'è là Oh, c'è là C'è la miseria Come cazzo fanno Già a togliermi tutto Ok, l'ho messo giù Ragazzi Non ho granate Cazzo Ok Non voglio Non ho granate Non abbiamo le granate Oh, cazzo Arriva Dai, vai, vai, vai Che cosa Minchia ragazzi Che culo Tranquillo Forse crepano nel cerchio ragazzi Non si sa Però l'accogliamo L'accogliamo qua ragazzi Scusate, sono un po' concentrato Tu, ma il medikit se l'ha preso Non c'è Guarda quanto cazzo di colpi Ho consumato ragazzi Due l'ho ucciso Due Sono quattro squad Ragazzi Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Dove, dove Ok, head down Head down Cazzo, cazzo No Sono caduto troppo Bello Ragazzi Se mi becca sono morto Se mi becca sono morto No, mi ha preso Minnaggia la miseria Non doveva succedere Cazzo L'ho preso subito l'altro Non ho visto sopra Che c'erano l'altro Se n'è andato il fumo Eh, ragazzi Sono qua, ragazzi Qua, qua Salvami Salvami Qua, dietro l'albero Dietro l'albero Sì, dai Oddio ragazzi Secondi Ci ammazzano Ci ammazzano Aspetta Oddio santo Oddio santo Oddio santo Le bombe Bombe Quanto bombe Dai, non mi fanno niente Dai Ragazzi Se ho culo Le mie Possono anche beccarle No, no Troppo tardi L'ho visto troppo tardi Cazzo La miseria Non l'ho visto troppo tardi Se c'avevo il fucile Dai Forse ce la fa lui Ce la fa È solo Poverino È solo L'ho preso Ho fatto tanti danni No È morto È morto Peccato ragazzi Peccato Secondi Però era figo Un giretto figo Mi è passata davanti Non l'ho vista Mannaggia Non l'ho vista troppo tardi Poi guardo la registrazione Se funziona Se mi vedete Non mi vedete Però dai tranquilli Dai ho fatto due kill 566 di danni 16 minuti e 30 Soprovvissuto Vabbè tranquillo Dico che non era una partita male Ragazzi Spero che Apex Legends Vi piace Naturalmente Ho fatto un po' di tagli Perché 16 minuti Non è che Sono tutto action Quindi ci metto le parti più belle Ragazzi E come sempre Iscrivetevi Mettete un bel like Ragazzi Ciao a tutti Vi saluta Il vostro Gioca con Mike Gioca con Mike Gioca con Mike